Ciao a tutti, e benvenuti a questo aggiornamento esclusivo sul Grande Fratello. Oggi ci immergeremo nell'ultima puntata, dove un evento ha scatenato scolpore tra i concorrenti e i telespettatori. Ricordatevi di rimanere con noi fino alla fine, perché questa è una storia che non vorrete perdere. Nella puntata di ieri sera del Grande Fratello, il conduttore Alfonso Signorini ha messo in luce l'affiatamento tra Alessio Falsone e Per Lavacchiero, suscitando grande curiosità nell'audience. Alessio, ex volto di Temptation Island, ha sottolineato che il loro legame è puramente amicale, ma le dinamiche tra loro hanno sollevato interrogativi. Anche Mirko Brunetti, protagonista di questa vicenda amorosa, ha espresso il suo punto di vista, rivelando la sua fiducia nella partner. Ma le sorprese non finiscono qui. Recentemente, Alessio è stato al centro di un'altra controversia. Secondo indiscrezioni divulgate da Medeo Venza, noto esperto di gossip, avrebbe baciato un'inquilina durante la notte, mentre le telecamere erano spente. La situazione è avvolta nel mistero, con Venza che svela dettagli intriganti su questo enigmatico bacio. Ma chi è stata la fortunata destinataria di questo gesto? Le ipotesi sono molteplici, ma una cosa è certa, l'atmosfera nella casa più spiata d'Italia è carica di tensione e segreti da svelare. E voi, cosa ne pensate? Ditelo nei commenti. Grazie per averci seguito fino alla fine. Lascia un like, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere i prossimi video. Grazie